la quinta corsa al cilidiano di Aversa il premio Londra un miglio per soggetti di quattro anni corso a clou del pomeriggio non corre Sianel Leone restano in otto prima fila per Canarino Jet, Chiara Degliulivi Caronte Griff, Celi Egral seconda per Costantinferm, Camelia Jet e Cusameni Canarino Jet impegnato a largo da Chiara Degliulivi più a largo Caronte Griff parte bene Camelia Jet Chiara Degliulivi sta ottenendo il via libera e sfila a condurre su Canarino e Camelia a largo Caronte Caronte si ritrae in quarta posizione davanti a Cash Fass quindici in lancio riduce il ritmo Chiara Degliulivi che si lascia gestire da Umberto Di Vincenzo e ciò provoca l'avanzata esterna di Cash Fass trentuno scarsi il quarto iniziale Cash Fass a larghe folate avanza e prova ad agganciare Chiara Degliulivi 600 in 46 secchi Chiara Degliulivi con ai fianchi Cash Fass poi Canarino getto lungo i paletti affiancato da Cusameni Camelia Jet terza la corda con ai lati Costantinferm 1 e 2 il giro di pista si viaggia sul piede dell'1 e 16 o poco più chilometro completato in 1 e 17 scarsi sulla retta di fronte Cash Fass lancia l'attacco alla battistrada e la costringe ad accelerare i due allungano testa a testa e arrivano ai tre quarti di miglia in 1 e 31 scarsi con una frazione di fronte in 13 e 9 Cash Fass non fa rispirare Chiara Degliulivi Cash Fass copre interamente Chiara che prova ad allungare ancora ma Cash Fass fa valere qualcosa in più è proprio in possimità del palo Cash Fass appariglia completamente l'avversaria si è andato forte i due molto ma molto vicini li vedete battute conclusive in prossimità del palo probabilmente il figlio di Espluacaff e Rapsodia del nord vale a dire il numero uno Cash Fass mette il musino davanti a Chiara Degliulivi Romeo Gallucci perfetto in salchi per il portacolori del avvocato Francesco Gragnaniello presentato in condizioni ottimali da Giulia Deschi e Francesco Tufano Grazie